Ciao a tutti ragazzi, sono Sopo Sopo Katsune e benvenuti all'ottava parte della Naslock vs Tramea alle game 67 Ciao a tutti ragazzi E quindi oggi faremo l'ottava parte, ma prima di tutto mostriamo i nostri team Che su tutto il mio team ha avuto tantissimi cambiamenti Abbiamo il nostro Trisaur a livello 30, sempre lo stesso moveset Abbiamo a livello 29 Piccione, Natura Decisa, sempre lo stesso moveset E Amparato, Attacco d'Ale e anche Aerossalto Poi abbiamo Scimmia 2, che si è evoluta in Primeape E ha imparato colpo karate, colpo basso, movimento sismico e sfuriate Poi abbiamo Pokéball, che sarebbe il nostro Voltorb Che abbiamo catturato perché sarebbe in pratica, visto che era raro dentro l'erba Mentre stavo allenando un po' di Pokémon l'avevo trovato E quindi era il mio encounter per il percorso 10 E quindi l'ho catturato Che ha Scintilla, Sottocarica, Onda Shock e Flash Che ci sarà preso tutto oggi durante il Monte Roccioso E abbiamo Talpa, cos'è il suo moveset E abbiamo Topo Gigio come sempre Tanto viene ugliato da tutti, ma io lo faccio rimanere in squadra Ma se fanno tutti in tifo per te Sti cavoli Io ho Scimmia al 25, che non ho fatto già evolvere E poi, vabbè, sempre le stesse cose Vabbè, tanto tu non devi dire niente Tanto il team è sempre lo stesso, non è che cambia tanto Sì, ah, gli ho messo Breccia perché finalmente l'ho trovata Sfortuna Poi Blades al 30, niente Poi Mario al 25 gli ho messo Flash Oh Maria Salvador E poi ho allenato Diglett Che si stava per evolvere Ma tanto, visto che non l'ho avuto Ho detto, ma sì, gliela faccio vedere insieme Perché al 26 si evolverebbe, ma gliel'ho bloccata Così perché sono cattivo L'hai bloccato? E poi mi sono preso Mr. Mime Nella casetta lì Mi c'è fatto un Roccioso Perché se vi ricordo avevo catturato Abra Tante matti fa E niente, Foglia Magica Confusione Sostituto Schermo Luce Ma inizia nella squadra Però li ho allenati così Almeno potete dire che non ho solo 3 Pokémon Ne ho 5, però questi due non li uso Ok, possiamo andare subito dentro? Ok Con Flash è molto più semplice va tutto quanto Cioè Ehm, beh Allora Pokémon Mario Sancho Stelis Echiero Mi amore Tetra Questi sono tanti allenatori Soprattutto non ho i repellenti Ah Onyx Mia adesso mi è uscito come primo Encanters Che te era uscito invece l'ultima volta Mi ricordo Zubat Zubat di nuovo Eh sì, ma non l'avevo catturato In Monteluno allora Ah, beh Quindi l'hai dovuto catturare Ah, Zubat Forever Forever Zubat Forever Zubat Forever Zubat Sì, cos'ha? Revitalizzante Cioè non mi serve a niente In una Naslock Io sto affrontando Uno che c'ha il Cubone Ah sì, il primo allenatore Cavolo, però mi stanno facendo un bel po' di danni E il mio scimmio è un po' sottolivellato Mi sono dimenticato di allenarlo Ok, mi sono ricordato di mettere la musica ora Movimento sismico Non so se mettergliela No Blocca, blocca, blocca Cioè perché devo andare a più sonnifero? Slowpoke, vabbè C'ho Mario Però cavolo Anche psico Devo stare attento perché non li ho allenati Almeno li potevo portare fino al 26 Beh, stanno alliello 22 e roba del genere Quindi c'è Eh ma Cubone mi ha creato abbastanza problemi Cubone, no Cubone Sì, la stessa cosa Io leggo come si scrive Ok, mi prendo le vite che mi le... No, confusione, ahiaia Ok, niente di che Non riesco a dire abbastanza di tensione Quindi stai affattando anche te Tipo quel cervellone No, già fatto Cioè io non sto andando avanti così velocemente Quindi non puoi di niente Ok, mamma Sì, sì Allora Scimia è già indebolita Proprio scimia off camera lo allenerò Però è solo lui che posso usare contro i roccia Io me lo prendo molto con comodo invece Pozioni Non riesco a schippar qua Dove forza combatto contro uno Sì, molti sono obbligatori Allora Vabbè, andrea, va fa' quello da questo Zuba Ah, il 16, va Ha un geodude, perfetto Sto posto Sono un geodude da lì alle 25 Perfetto Ah, ma adesso non me la scende Che è nelle scale che mi esce geodude Ok, allora stavo pensando per le domande del giorno Io so che se ne facciamo noi sono sempre le stesse Tipo se siamo nella palestra Chiediamo qual è il tipo preferito da voi Fatecele voi le domande E noi vi rispondiamo nella parte del dopo Eh, vediamo un po' qua che c'è sta C'è sta, c'è sta Fatecele voi le domande del giorno, ecco Eh Ok, sono appena sceso nel secondo piano sotto il radio Ed è costruito poco tanto per cambiare Sto c'è una 3d pokemon Ma si, mega calcio No, perché fallisci? Cavolo, 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 cavolo Mi sa, oh, ti posso dire una cosa? Ho rischiato sciglia Uh, mi sa che culto A domande che c'ho Nasone Vai, vai, sacrificami per la patria Hai ucciso Nasone? No No Però l'ho mandato in campo Mi sa che Trisaur si va benvenosauri in questo episodio, eh Già il 32 Sto al 31 e mezzo Fizze, che la sei molto più avanti di me Magnitudo 8 Proprio lui Nasone Che non fa niente Mi sa che Nasone muore Chi è Nasone? Ma il suo 7 Chi è Nasone? Nasone sarebbe Di Igleth, quello là Ah Ok, mi ha fatto Magnitudo Quindi uso Fossa Ringraziamo Dio che esistono i rebellenti, va Nasone si sta facendo valere Nasone a 6 PS Ma comunque non credo Cioè tu stai usando Flash? Sì Ah, ok Ok, ho detto Gabriele è poche fanatico Cioè io sono due allenatori Ho partito fino adesso No, io ne ho cercato di vita tantissimi Cioè, però Vai, Pokéball Fatti valere i Pokéball Un da shot Deve evolversi al più presto Tu le le ho fatto Evolveri off-cada Eh, lo so Connoianza Papa Garozzo Che fatti evolve In gloom Senza registrarlo? No, ma io sto facendo Sto Battendo molti allenatori Perché voglio raccogliere molti soldi Poi per il casino Ho già un po' spoilerando Megacalcio che va a segno Ringraziamo Mi ha avvelenato, cavolo Ce l'hai? Spero che abbiano antio Perché se ti scatta qualcuno Aspetta un attimo O fai con superpozione continuamente Finché dopo Non c'è ancora la vita Se ce l'hai Eh, se ce l'hai Oh Dio Oddio Vabbè, la scimmia non è che è una che mi sta tanto a cuore Mi è morto Raticate Il tuo? Eh Ma stai scherzando tanto No, mi si sta per evolvere Trisaur però Ma che c'entra? Guardi che Vabbè Oddio Allora Ho una sveglia Antiparabisi Antiscottatura Godiamoci questo momento No, non ce l'ho l'antidoto Si sta evolvendo Trisaur No, non è l'antidoto Né la fune di fuga Quindi lo curerò A tutta la vita Oddio Venusaur 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 Yeah, yeah, yeah Oh, partiamo benissimo Mi dicono Eh, sto partendo benissimo C'ho Venusaur ora Io c'ho scimmia che mi sta muovendo Oddio Regà Scimmia vedremo Non devo scordarmi che c'ho scimmia È bellissimo Ok, ora io posso usare Uso scimmia Scimmia 2, vai Eh, maledizione Vai, scimmia 2 Scimmia È lì che so Hai un po' Dex Ne voglio un anch'io No Ah, c'è Charmander questo Hai già fatto tutto quello con Charmander No, io l'ho evitato quello Eh, non so se si può Deve ritardo Allora, allora, allora Ok, forse Vabbè, io la finirò Mezz'ora dopo Fanno lo stesso Tu Versaglia lavandone Ascoltati la musica Oddio Ecco di nuovo Cubone Così mi suicido Anch'io, no? Eh sì Eh, ma la serie Poi non continua Ah, continuo da solo Ok, ecco Cubone Vai, Pokéball Sei nata apposta per questo Ma perché cavolo Non ho gigasorbimento Ok Gigasorbimento lo prendi dopo Alla palestra, no? Non so Ma che padre Sto scemo Manco megasorbimento Ok Ok Pokéball Sto facendo il suo sporco lavoro Ho battuto anche Cubone Cubone E Mario è salito al vento Oh Maria Salvador Pecchiero mi amor Ho battuto Jacopo Pochefranatico Ti ricorda qualcosa? Cosa? Jacopo Pochefranatico Ah, Jacopo Bruno Allora, scimmia Sta a 47 vite Su 57 Quindi Per il momento È ancora vivo Ecco Ma forza di mondo Guarda Non servirebbe troppo scimmie Ti state limitando Scimmia Scimmia Due Scimmia Due Scimmia Due Scimmia No Ti metto Maria come primo Scimmia due è meglio Sì Tu Ce l'hai già Il 30 29 28 E si è già venuto? Eh Ah Se non lo ho 27 Non lo ho 29 Non lo so No Allora Se vuole 29 Se vuole Eh 22 Vai Talpa Usa la tua breccia Breccialo Mantissimo Scimmietta Stai ancora Vabbè Devo dire che il veleno Non toglie così tanta vita Quanto penso Ok Ecco Geodut Eh Ero assalto Vai Ah Ero assalto Io non l'ho segnato a nessuno Mi so Non Cioè Non l'avevi Insegnare a cosa Eh Poi vedo Te l'ho detto Che questi giorni Niente Ho trovato un pirla Uh Geodude One hit Che io E non ha Vigore Perfetto Saramente non ce l'hanno qua Beh ma dipende Magari V ho la doppia abilità Sono giunta fin qui Grazie per i pochi Ok Miau Colpo karate One shot One kill Scimmia 2 Vai Sei molto meglio di scimmia Già già Vedremo Vedremo Quando il tuo morirà Ma che cazzo Oh c'è Mi scritti all'attacco Io oggi ho letto un commento di uno che Che mi diceva No mi dispiace che hai catturato Che hai catturato Oddish Ma ti immagini se catturavi un miau Devo dire che anche acido è veramente bella forte Ti immagini se catturavi un miau al posto di Oddish Questa parte non sarebbe in atto Ma a quest'ora Io sarei in un cimitero Possibilmente quello di Lavandogna Allora Non vorrei dire niente Però Sei già uscito? Sì Allora abbiamo una pozione Io sono ancora gatto male Beh io combatto quei due che stanno là davanti Se c'hai voglia Fatti il percorso sotto Lavandogna E io erano a catturare un bel po' che mi uncavavo in mente No facciamo così allora L'encounter se lo facciamo assieme Tu vai sotto il percorso di Lavandogna se ti va E qual è quello? La pari va a quale sotto? Quello dove c'è il ponte con i pescatroni Ah oddio no Te prego Eh boh tanto quello lì io lo faccio Ma io non lo faccio perché sono già overpower del mio quindi Vabbè tanto per usare il tempo Io vado di qua allora va Vediamo un po' E fidati che la palestra dell'Eno c'è in Pokémon al 42 Ecco Lavandogna Vai comincia la musica per i suicidi vai No dai vai silenzio Io non la sento porca miseria Alza un pochino Eccola sento Aiuto Ragazzi se non posteremo un video tra due giorni Significa che Lavandogna ha avuto il suo effetto Quindi condoglianze A me stesso soprattutto Ok sento vicino alla fine Anche se non la sento Perché sto andando un po' a caso lo ammetto Io vado un attimo qua dentro va Torre Pokémon Ah lì ci sono degli allenatori che puoi fare adesso però poi sei bloccato Ne vado con Gary Vado contro Gary va Iglybuff Che simpatico Inizio con po' che vuole Scito assorbimento cavolo Andiamo di acido Ok Ehi che fai qui Sal I tuoi Pokémon non sono morti Però li posso sconfiggere In guardia T'è morto Radigate Ehi infatti ora ci sono le patiche Gary è morto Sì ma ora muore anche a te Ma che? Eh Jojo Eh ma nel tuo gioco muore non nel mio È diversa la cosa Eh Vabbè dai Lo stiamo solo facendo soffrire di più Il tuo povero Radigate Neanche ho fatto combattere in questo video No ho sbagliato Ho fatto per artigli soffiggere Gheridos Hai un Gheridos Non lo sapevo eh Eh l'ha legato la carta Eh l'ho masch... no Non ti devi permettere Ok off camera faccio arrivare Scimmi al 29 Ok Dannato Gheridos Che ha fatto? Ma ha quasi chillato Pokéball Ha fatto bene Ha usato colpo E mi ha portato a 7 PS Oddio Oddio Ipnosi No te prego Oddio Cioè tu sei il più stronzo degli allenatori Io mi sono perso Oddio Sei il più stronzo degli allenatori Guarda No Il più stronzo No è d'oro Guarda piccione Guarda se devi morire Ti ammazzo io guarda Pozione su scimmia Perché mi sta continuando a parlare di PS Ho finito le pozioni Quindi un passo verso La morte Oh si è svegliato Alleluia Si è svegliato piccione Trenta Vai piccione Ti giuro che non so più dove andare Vai topogigio È il tuo momento Io non lo manderei in campo Ho trovato una fune di fuga Perché io ragazzi qua mi sto perdendo Allora Ok Devo scendere di qua Bravo topogigio Oh da l'arte Svegli lancio Qualcosa Talpa 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 Cavolo dove sono finito One shotato Talpa Un one shot Charmeleon Oddio Brutta puzzola Ti ho sottovalutato Che sa una puzzola Una puzzola Come ha messo il topogigio Io ho un cubon Ma non ho ancora trovato un marowak Credo che non ce ne siano più Beh Meglio che vada Ho un sacco di cose da fare Ci becchiamo in giro Boh forse lì vedo una scala Io la prendo Anche se ho paura se quella sbagliata Sta ancora dentro la cosa? Eh no Mi sono perso Ti sei perso Ti sei perso Mi sono piaciato despertuto Non ceca La gente non mi aiuta Sano a vedere scimmia che muore Vendo un pirla intanto Fa 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 Credi puttani battere Si de batto Non sono perseguitati di gen Fa lo stesso C'è un assordimento No no che odiosi Non riesco più Ok Le odio di niente Boh tu nel frattempo Fai quello che vuoi Che posso fare? Vabbè vado Si ho di andare sotto l'avandogna Eh ho capito però Allora Perché fin Perché non c'è niente da fare Sotto l'avandogna Non c'è qualche allenatore Si ho capito però Allora ti consiglio Di ascoltarti la musichetta Per un quarto d'ora E suicidermi Beh io ti accommando Che po' di persone Stanno a peccolo sotto va Eh va bene va bene Tiè niente da fare Porco due Perché mi dimentico Di curare i pokemon Cioè Mi uscì Mi devo vedere A quanti pièce Snopo che ha fatto ruggire Non mi interessa Ho finito i pipì di assorbimento A posto Eh si diciamo che siamo un po' in difficoltà Non solo perché mi sono perso Mi sei perso Scimia stata in tutti i test Ok Dopo rido una super pozione Super potion Confusione su Mario Morto Allora 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 Con assorbimento mi riprendi tutto Quello che mi ha tolto Paticamente Uh quanti Quanto è il flopo che ha questo Un ritmo 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 Di assorbimento Cioè tu ti dico Comunque ho visto Un ritmo Un ritmo Cioè qual è il senso Non lo so Il senso è che ho finito Assorbimento Condoianza Ce l'hai Hetere? Sì Ho trovato un hetere max per favore il tempo di invidio e io c'ho mario c'ho mario ma io ma mario insieme ma tu non vai a rio o mario salvador mi escegna ritorna con vita o facciamo la parodia facciamo o mario salvador mi ricordo perchè sai che ci sono le due allenatrici eh si sono arrivato bella sprout una notte in doppio e vai bella sprout anche veleno si altrimenti l'acido deve aver fatto molto più male sono qui sono qui cleferi si sacrifica è inutile cleferi che sarà pazio muori jigglypuff devi morire ho un muo ha fallito canto, meno male sono qui esiste ancora come vostro si infatti l'ha appena usato un cleferi eh pure io ce l'ho qua ok devo dire che a questo momento non gli fa niente mentre accida lo quale sciotta non mi credo ah la mia moto manca la parola cioè questo qua Riccardo Riccardo Centauro ha detto alla sua moto manca la parola già già a te ne manca pure il cervello però eh oh 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 io continuo a fare acido su dei poveri pigi no turbosabbia ok io ho fallito cominciamo non vedo allora che il mio che la mia poche polsi evolve mi ha fatto turbine e mi ha messo scimmia in campo andiamo di breccia breccia forever forever breccia oh c'è il ratata ragazzi e ratata non è il mio non è il mio ratata oddio no allora questo sopravviverà ok perfetto tampa al livello 28 poi ho sciottato ratata eh eh tanto non è il mio l'importante è che non è il mio però un altro ratata perfetto lo uccido perfetto alla fine dove sei arrivato io eh eh ah sono arrivato sono arrivato sono arrivato al percorso 7 che sarebbe vicino a azzurropoli ah ok ok poi dimmelo quando arrivi a lavandonio e tutto quanto va così a meno prendiamo i recalteri gli ultimi selvatici c'è Trubat che è il mio amico io vorrei prendere una cosa però prima dove? ma sempre azzurropoli vuoi già prendere il tuo pokemon? si uffa volevo prendersimo insieme però io non prendo il tuo stesso lo so no è ancora un'allenatrice obbligatoria ecco il mio bellissimo Eevee abbiamo fatto tantissime cose in questo episodio anzi ho fatto tantissime cose oh si mi ha velenata ok il mio bellissimo Eevee che si chiama Multiforme pff ma tommo adesso tra l'anno ah 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 ci dopo perché ancora non so che che forma dai hai capito quella cosa ok poi ci penserò durante gli episodi lo evolverò proprio all'inizio guarda ah io ti consiglio prima di insegnare Morso o ce l'ha già cosa Eevee eh non lo so non ce l'ha già ok mi porto un colpo di attacco rapido io prendo l'encounter a percorso 7 allora vado a prendere il tè tanto non trovi niente di nuovo vabbè allora vado a prendere il tè signora voglio un po' di tè per favore la bevande ghiacciate non so se trovi qualcosa di nuovo le bevande ghiacciate sono care e non dissedano prova questo invece hai ottenuto tè quando si assedia non c'è niente di meglio di una tazza di tè bollente ok sono uscito oddio miracolo tu 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 questo qua invece che dice arg mi sono ascoltato la lingua questa anziana signora mi ha offerto del tè ma era bollente avrei dovuto aspettare che questo si raffreddasse ma di mortacci signora ci sono ancora redattori fuori da lontano fuori da mi puoi pure schippare però eh ma uno è stato obbligatorio ho fatto lo saltino e veragli a guardarmi sono flash nessuno mi supera sono flash forse una scena è grave no sempre forte con i pokemon alla fine questa parte volevo la facesse un po' scimmia ma se l'hai fatta tutta mario oh maria salvador che ero morto tu ce l'hai già ah no adesso al 30 appena salito di livello chi è al 30 si ha presa più 3 attenzione chi è al 30 mario ah mario no mario mario ma mario come sta a rio ok ce l'ho fatta sono arrivata a 9 ok possiamo prendere l'encounter alla ruccio 8 così meno finiamo anche il coco adesso vi do adesso vi do no devo curare di sicuro il pokemon alle manchene might fatal market mi cavolo io devo anche pensare alle megaball e mi sa che allora il pokemon era da giuropoli lo prenderò puntare anche neanche l'ho preso quindi siamo a posto 1 shot 1 shot 1 kill 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 Allora, le megaball solo avete Ebbene, le megaball devo prendere una trentina Una trentina Mi serviano, ragazzi, fidateli Una trentina Ok, ho finito i soldi che ho raccolto con tanta fatica Non ne ho più, cioè quasi zero E chissà che allora il Pokémon da Zurofoli lo prenderò Dopo Vabbè, intanto prenderò il mio encounter qua Vediamo che c'ho Il percorso vai Miau, che già c'ho Ah, nel percorso sotto poi potete prendere l'elmenatore Un PG Oh, non mi dico, ce l'ho sempre in fronte, prego Sì, ci sono ormai, sono quelli, eh, non è che Cioè, ma in suicidio alla fine fa un naso tutto il gioco Senzio Non ti basta la scuola che c'hai? Non lo scassa inireti che devi togliere, ti capisco PG Guarda No, non è, possiamo finire qua Eh, finiamo qua, facciamo l'ultimo clefairy Finiamo qua, va, meglio Per fruttare solo l'ultimo clefairy Ma che cazzo? Bastardo Breccia Ok Brutto colpo di breccia Vabbè, mi sa che neanche qua potrò prendere un encounter di merda Però ragazzi, ho preso il mio cavolo di ivy Multiforme Comunque Vuoi finire l'episodio qua? Sì, sì Comunque ragazzi, questo è tutto Ci vediamo nel prossimo video Scrivetevi nei commenti su quale forma dovrei volvere il mio ivy Oppure, secondo voi, come lo vorrete fare questo ivy, non lo so Questo è tutto Ciao, ciao, ciao ragazzi BITCH Buongiorno Buongiorno Buongiorno